Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla FIGC è stato espresso dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti. Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio. Così i ministri della Salute, Roberto Speranza, e dello Sport, Vincenzo Spadafora, in una dichiarazione congiunta. Il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto a Radio Kiss Kiss parlando del momento societario del Milan e della recente polemica innescata dal direttore tecnico della società rossonera Paolo Maldini nei confronti del tecnico tedesco Ralf Ragnic. Come siamo messi male? I problemi sono sempre ai vertici. Il problema non è il signore tedesco Ralf Ragnic, che deve imparare la lingua. Ma quanti milioni di euro abbiamo buttato in questi anni senza combinare nulla? Non so quanti ne abbiamo cambiati di allenatori e giocatori. Se non funziona la testa non funziona nulla. Temo che se non ci sarà un chiarimento a livello di società, tra dieci anni saremo qua ancora a cambiare modulo. Quale presidente mi piacerebbe? Uno con nome e cognome preferibilmente italiano, non un fondo azionario a cui interessa poco il risultato del Milan la domenica pomeriggio. Uno che sai dove sta nel bene e nel male e che ci metta grinta e passione. Il presidente è un fondo speculativo. Finisce la poesia. Ha concluso Salvini. Ormai è ufficiale. La Premier League potrà ripartire dopo il primo giugno, rigorosamente a porte chiuse. La ripresa sportiva è parte del piano varato dal governo di Boris Johnson per gestire la fase 2 dell'emergenza coronavirus. Il massimo campionato calcistico inglese è fermo dallo scorso 9 marzo, data in cui si è disputata la 29esima delle 38 giornate della competizione, ma adesso grazie al via libera del governo le squadre potranno tornare in campo. Ora sarà ai 20 club di Premier League riunirsi e valutare come e quando riprendere il torneo. La data più gettonata per il calcio l'inizio è il 12 giugno. Il Real Madrid potrebbe non giocare più allo stadio Bernabeu almeno fino a fine stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico AS, se la Liga riprendesse a porte chiuse, i Blancos disputerebbero le ultime sei partite casalinghe nel centro sportivo di Val de Bebas, eventualità che darebbe la possibilità di accelerare i lavori di ristrutturazione dello stadio. La squadra di Zidane quindi potrebbe prolungare l'assenza dal Bernabeu fino a gennaio 2021 o fino a che il governo non permetterà di nuovo la presenza di pubblico sugli spalti, prevedendo un rimborso destinato agli abbonati per quelle partite a cui non avranno la possibilità di assistere. La Liga ha già dato l'ok, ora bisogna solo aspettare e vedere se eventualmente anche la UEFA starà d'accordo.